Si seguono sempre i grandi temi con delle risposte un po' semplici, no? E io sinceramente credo che sia anche normale, non ne faccio mai una questione di colpa dell'elettore. No, 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 il nostro cervello è fatto così. Certo. Non è che possiamo dare la colpa al nostro cervello. Il metodo scientifico è controintuitivo. Noi faremo il 25-26 febbraio il Congresso Mondiale per la Libertà di Ricerca Scientifica a Addis Abeba, in Etiopia. Sì. E lo facciamo insieme all'Unione Africana con questa organizzazione che abbiamo creato che si chiama Science for Democracy, scienza per la democrazia. In che senso? Il metodo scientifico oggi è uno strumento essenziale per salvare la democrazia. Proprio perché il metodo scientifico aiuta a approfondire gli aspetti controintuitivi. Se tu guardi, se tu ti svegli la mattina e vedi il sole si alza e poi va giù, cosa devi pensare? Che il sole, che la terra è piatta e che il sole gira intorno alla terra. È quello che intuisci. Per arrivare a conclusioni completamente opposte, il metodo scientifico è fondamentale. E questo vale anche per i fatti della democrazia. Ma il mio discorso è, quindi è necessario un atteggiamento top down, cioè dall'alto verso il basso. Perché se tu da una parte fai tutto un discorso di, ok, dobbiamo prenderci la responsabilità dei nostri gesti per dimostrare alle persone che questa è una loro necessità e quindi devono agire loro. Alla fine è un discorso culturale quello che fai tu, no? Questa cosa qui, come può funzionare sperando di attivare il metodo scientifico nel dibattito pubblico quando sappiamo che in effetti... Secondo me ci sono due strumenti fondamentali. Uno è che il dibattito sia davvero un dibattito. Perché se la politica la facciamo con i selfie, io sparo la mia cazzata. Magari la sparo molto bene, molto efficace, ma non c'è contraddittorio. Non c'è... e quindi ognuno spara la sua. Questo è uno dei veleni della politica oggi, che ognuno parla da solo. Non c'è nemmeno il tentativo di quel confronto, quelle favolose tribune elettorali che per legge si dovrebbero fare ancora e non si fanno, dove uno dice una cosa e c'è chi lo smentisce, c'è chi dice la contrargomentazione. Il dibattito politico deve essere fatto di questo. L'altra questione è la rivoluzione tecnologica, come potrebbe aiutare la democrazia e invece non lo si sta facendo. Cioè oggi ci sarebbero gli strumenti per fare partecipare davvero le persone alla cosa pubblica. Ci sono milioni di ragazzi che giocano a videogiochi dove tu devi costruire delle città, dei ponti, delle... E paradossalmente non c'è neanche una app che possa consentire di interagire con la città vera, se passano a prendere la spazzatura, se stanno... se il traffico è ben gestito nella mia città. Cioè oggi ci sarebbe la possibilità di rendere divertente, figo, smart, interessante per le persone, partecipare alla cosa pubblica, appassionarsi. Certo bisognerebbe fare degli investimenti che invece non si fanno perché la politica è impegnata su altro. Mi stai parlando di strumenti di democrazia diretta, cosa mi devo immaginare? Sì, anche. Guarda, basterebbe digitalizzare gli strumenti che già ci sono. Quoi siamo a Cagliari, ok? Se a me cittadino mi viene in mente di intraprendere qualsiasi attività, diciamo, dove c'è un profitto economico, voglio andare a mangiare su un ristorante cambogiano, voglio giocare, col mio cellulare trovo tutto. Se per caso invece il mio problema fosse che qui di fronte non passano mai a raccogliere la spazzatura, come la chiamate qua? Ariga. Esatto, la spazzatura. Che cosa devo fare? Come posso interagire? Allora, oggi gli strumenti quali sono? Io dovrei andare in comune, depositare un modulo, farmelo timbrare dal comune, poi dovrò chiedere l'autorizzazione per raccogliere le firme del suolo pubblico, poi devo avere un autenticatore presento al tavolo, raccolgo le firme, devo andare a raccogliere i certificati. Insomma, la democrazia è l'unica seria attività umana non digitalizzata. Però tu mi stai parlando di cose diverse, nel senso, ok, nessuno è contro l'idea di sburocratizzare o digitalizzare, è solo che è molto complicato, però tipo non hanno preso la spazzatura o qualcuno ha parcheggiato in doppia fila, su un'app si può fare. Ma non lo fanno. Non lo fanno. Magari succederà in futuro. Però quando invece ci rispostiamo sulle questioni, diciamo, più etiche, più pesanti, che comunque impattano la vita dei cittadini, ma in modo diverso, magari non giornalmente, o comunque non giornalmente a chi non è capitato, a me è capitato di stare vicino a qualcuno che aveva bisogno di cure continue, che era in fin vita, e quello ovviamente diventa la tua vita. Lo saprai meglio di me. Però la maggior parte delle persone a quello non pensa. Quando devi mobilitare le persone su un argomento di questo tipo, puoi davvero sperare che ci sia una tale partecipazione da smuovere la politica, nel senso più alto del termine. Perché ti dico, a me sembra che, rimanendo sempre sulla questione del fine vita, tutte le persone con le quali parlo, siano fondamentalmente d'accordo. Cioè, se non è qualcuno che è veramente, veramente estremista religioso, proprio hardcore religioso, sono tutti d'accordo. Sì, specie quando sta succedendo, io l'ho visto succedere, qualcuno che era lì che non succedeva, e tutti dicevano speriamo che succede immediatamente, o sarebbe giusto che qualcuno arrivasse e gli facessero appunto le solite cose che si dicono. E quello lo dicono tutti. Si dice da destra, si dice da sinistra. Perché poi questa cosa che è così sentita nel paese, non raggiunge la politica? Cioè, basterebbe l'app per dire, No, allora, l'app e gli strumenti per la partecipazione sarebbero utili per riuscire a coinvolgere ancora di più un'opinione pubblica che, come dici tu, è alla stragrande favorevole. E quindi questo aumenterebbe la pressione nei confronti dei partiti. Se però, ad oggi, ai partiti, ai capi dei partiti, questo tema non è ancora arrivato, è perché l'Italia fino a un certo punto è una democrazia. Cioè, Il sistema politico-partitico è molto autoreferenziale. E ci siamo rassegnati all'idea che parlare di politica significa parlare di chi sta al governo, chi sta all'opposizione, chi si equalizza con chi, chi fa l'ascissione con chi. La politica è il gioco per la conquista del potere. Naturalmente la politica è anche questo, che è una cosa seria, non è che è irrilevante chi sta con chi, chi fa cose, eccetera. Ma si è mano a mano affermata un'idea per cui il collegamento con le urgenze sociali, cioè sociali nel senso vissute concretamente dalle persone, si perde sempre di più. Allora, perché i capi dei partiti italiani non, allora, si rifiutano, poi diciamo le cose precise, da quasi sette anni abbiamo depositato le firme per una legge di iniziativa popolare sull'eutanasia legale. Quasi sette anni. L'articolo 71 della Costituzione dice il popolo esercita l'iniziativa delle leggi. Quindi da Costituzione questa legge avrebbe dovuto essere discussa da sei anni e mezzo. Ed è per questo che... Non è obbligatorio, cioè non c'è un'obbligatorietà. Non c'è un termine, però nel momento in cui tu dici il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, non può voler dire che il popolo deposita le firme e poi le firme rimangono in un cassetto a marcire, perché in quel caso non sarebbe vero che il popolo esercita l'iniziativa. Il popolo butta via le firme. Quindi io ritengo che questa inerzia, anche se non c'è un termine preciso, sia una violazione della Costituzione. Ma in ogni caso, per quale motivo i capi dei partiti non discutono questo tema? Io penso che ci sia. Da una parte la, chiamiamola la questione vaticana, che diventa però sempre più un alibi. Cioè, mentre ai tempi di ruini, vent'anni fa, eccetera, il Vaticano era mobilitato a livello parlamentare per bloccare i dibattiti, per far passare leggi come quella sulla frecoltazione assistita, oggi le posizioni non sono cambiate, ma non c'è questa militarizzazione del Parlamento per fare passare o non passare. Quindi diventa sempre più un alibi. Sono i capi dei partiti loro stessi che hanno il terrore di temi che non possono essere usati strumentalmente. Come la concessione delle autostrade, le posizioni che cambiano, i balletti. Su questi temi, una volta che se ne discute, e poi interpella la coscienza di ciascun parlamentare, fai fatica a dare gli ordini, di scuderia, bisogna votare, non bisogna votare. E quindi è un fatto, è un fatto così, di protezione dei capi partiti, del loro potere. Perché sono temi trasversali, sono temi che spaccherebbero le coalizioni, che rischiano di dividere i partiti. E secondo me però è un calcolo miope, è un calcolo, perché poi, mentre Salvini dice chiaramente no all'omicidio di Stato, bella frase, che non vuol dire nulla, perché non è che lo Stato, o al suicidio di Stato, no al suicidio di Stato, non è che il suicidio di Stato, è la persona che sceglie di, e che semmai lo si aiuta a non soffrire, mentre lo fa. La posizione che dovrebbe contrapporsi a quella di Salvini, se ascoltiamo Di Maio, Finoieri o Zingaretti, qual è? Sono temi complessi, bisogna ascoltare diversi, cioè sono posizioni che non sono chiare, che sono ambigue, con l'illusione di essere sufficientemente furbi da tenere un po' di voti di questi e un po' di voti di quegli altri. Però quando una posizione chiara si confronta con una posizione ambigua, la posizione chiara, anche se magari è impopolare di per sé, alla fine vince, a me mi convince di più una persona che crede in quello che dice, o non so se ci crede o no, ma lo dice in modo convinto, no al suicidio di Stato, piuttosto che una persona che fa mille giri di parole e poi non dice niente e soprattutto impedisce ai propri parlamentari e ai propri elettori, perché tutti i sondaggi dicono che la stragrande maggioranza degli elettori, anche della Lega, ma del PD, del Movimento 5 Stelle, sarebbero a favore, addirittura sul Movimento 5 Stelle hanno fatto una votazione su Rousseau qualche anno fa, sull'eutanasia, oltre il 90% dei voti. Allora non si capisce perché se tu voti su Rousseau sulle elezioni in Emilia Romagna bisogna rispettare Rousseau, se voti sull'eutanasia si fa finta di niente da tre anni e non si mette in discussione. Grazie a tutti.